Buonasera signora. Buonasera. La nostra bella vicina di casa. A chi state aspettando? A mio marito. Dobbiamo andare a fare la spesa al supermercato. Bravo bravo. Senti, noi ci conosciamo mai da tanto tempo. Voi con vostro marito siete sposati da molti anni, vero? Sì, cinque anni. Come mai non avete avuto bambini? Che vi devo dire? La cicogna non è venuta. E perché non provate a cambiare uccello? Non so se mi spiego.